ok buongiorno qui da fantasia asia oggi ci troviamo fuori dalla radaron spa che è uno dei trecenti destinati massaggi di proprietà e diretti da miss apapin nota anche come miss noi di sapapin con cui ci incontreremo è la titolare sia di questa radaron spa infatti che andremo a provare fra pochi minuti sia della busabakon spa che è stata la prima nata della famiglia delle attività di con noi e sia per finire dell'accademia spa a tamani corn una scuola che è stata approvata e certificata dalle autorità sanitarie che consente a tutti siano tai siano stranieri di imparare questa nobile arte del massaggio thailandese così profondamente thai ciao Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 E il secondo è hot coconut oil body massage, quindi con il cocco caldo. Andino, scusa, ma come ne hai scelti sti due cosi? Ho puntato il dito a caso sul listino e tanto sapevo che sarebbe scato bene. Allora, insomma, va bene così. Buon divertimento a tutti. No, non yet Samaro può essere vero e può essere piuma Oggi è stata una 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 piuma